E' un nuovo piastello la guardiamo no è tutto è diventata cremosa diventò sono io così io non posso fare niente sono io chiamano due picciotti cacchiamo ora la mette marino entrava entrare in cielo diventò gialla ma siete pulito ti chiamiamo mostri cari già si lo pere 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 che a rompere ti stiamo andando a me per fare due raggiù che te li scuola dai lo capito ti stanno dando un po' di banane un po' di mele però ti stanno dando banane e mele senza frarice senza niente la patata è buono va bene è ma cosa questa manana è qualcuno no posso spingere lo spingere lo sforzo ho spingere ah no non si paura Grazie a tutti. Grazie a tutti.